Tra le acque del Vicentino di Filiberto Agostini, un professore di storia per parlare di acqua. Una cosa strana? Una cosa sbagliata? Una cosa originale? No, come sempre attraverso un percorso storico si capisce e si conosce meglio. Il valore è il patrimonio che per ogni uomo, per l'umanità intera, è la risorsa acqua. L'acqua pulita, l'acqua sporca, il lavoro degli uomini, l'impresa, tutto ciò che gira attorno a questo fondamentale elemento che compone la nostra quotidianità in maniera determinante. Ecco come Via Acqua siamo fortunati di poter accompagnare questa ricerca che poi ha prodotto questo splendido libro per poter far conoscere, far capire di più a tutta la comunità attorno a ciò che viviamo, attorno a ciò che apprezziamo ogni giorno e che dobbiamo riuscire ad amare di più. Non è soltanto un bene prozioso l'acqua, come spesso ripeto, è un bene essenziale, è un bene fondamentale, è ciò che di più importante forse, assieme all'aria abbiamo come umanità e come uomini. Noi desideriamo studiare, approfondire la questione delle acque. Già a livello globale è una questione fondamentale, cruciale in questi tempi, ma se ci rimettiamo alla realtà locale, alla realtà provinciale, notiamo che ugualmente l'acqua, nelle sue molteplici declinazioni, assume un'importanza radicale e cruciale. Ecco, per iniziativa di Biacqua, ma in collaborazione con la Fondazione di Storia Onlus di Vicenza, abbiamo avviato questa ricerca, questa ricognizione delle fonti per lo studio delle acque e anche una questione davvero significativa sul significato, sull'importanza, la sostanza dell'acqua, ma più esattamente direi delle acque nel Vicentino, dal Medioevo sino ai nostri giorni. Quindi non soltanto una riflessione sull'oggi, che sarebbe già un elemento importante, ma andando a ritroso nel tempo, arriviamo, possiamo dire, al Medioevo, che per Vicenza e il territorio costituisce un punto, un esordio davvero significativo. Ora, l'acqua. Perché questa riflessione sull'acqua? Che non è limitata soltanto alla provincia di Vicenza, ma in prospettiva coprirà via via tutto il territorio del Veneto. Perché l'acqua assume mille significati. L'acqua è difesa nel Medioevo del borgo. L'acqua è anche un alimento. L'acqua è un rifornimento per le popolazioni, quindi è davvero vitale. Sulla base di queste riflessioni e partendo da questi temi, abbiamo ritenuto opportuno organizzare una serie di iniziative e quella più recente, emblematica, è la pubblicazione di questo volume, Tra le acque del Vicentino, dal Medioevo. Qui ci sono dodici autori di provenienza culturale, di sensibilità diversa, ma anche di provenienza geografica diversa. E questi autori affrontano con sensibilità, affrontano la questione delle acque. Quindi partendo dagli archivi e partendo dagli studi che già esistono, si è giunti a confezionare questo volume che arricchisce le conoscenze delle acque in questo territorio. È da qui che nasce naturalmente l'acqua in abbondanza che alimenta la pianura vicentina, ma attraverso l'acquedotto alimenta, rifornisce anche ampia pianura padovana. Dobbiamo appunto ricordare comunque che l'acqua ha varie funzioni, non solo di alimento, non solo di rifornimento delle risaie, ma copre tutti gli aspetti della vita, del piccolo e dell'adulto, nelle sue molteplici articolazioni. Direi che dobbiamo sempre ricordare che già nel 1993 l'ONU ha considerato il 22 marzo ogni anno la giornata dell'acqua. E quindi questo sta a significare quanto importante sia anche per le organizzazioni planetarie questa giornata. Sta a noi però dare vita all'acqua, cioè conservarla, tenerla pura per le nostre esigenze. E qui in questo volume c'è anche un contributo interessantissimo del professor Claudio Ronco appunto sull'uso dell'acqua purissima negli ospedali, in nefrologia in modo particolare. Quindi questo ci dà il senso dell'importanza di questo elemento. Il discorso qui potrebbe ampliarsi moltissimo, potrebbe affrontare tutti i temi che in questo volume sono esposti. Ma direi che questo volume è sì il punto di arrivo per certi aspetti, ma è anche il punto di partenza per tante iniziative che a Vicenza, presso la Fondazione, ma in collaborazione con il Presidente Guzzo e con altri, desideriamo naturalmente approfondire e ampliare. Il nostro desiderio è questo, cioè queste acquisizioni contenute in questo volume non devono rimanere chiuse, come dire, nelle pagine di un volume di 250 pagine, ma queste conoscenze devono essere, per così dire, disseminate nella comunità, non solo tra gli specialisti, ma tra gli studenti ad esempio, tra gli insegnanti, tra coloro che esprimono sensibilità per l'ambiente e per le esigenze dell'ambiente che noi dobbiamo sempre avere presenti.